Intel Battlemage, è ora di parlare delle nuove schede video di Intel, la seconda generazione di GPU di Intel che al momento è disponibile soltanto sulle controparti mobile, ma sembrerebbe che siano in arrivo anche quelle desktop. Vediamo un pochettino di fare il punto della situazione, oggi veramente sembrerò un complottista perché ho 65 pagine aperte sul Mac per spiegarvi al meglio il tutto. Mi sono informato da decine di fonti, vediamo di fare un po' il punto della situazione. Like, commento e iscrizione sono sempre graditi, vediamo di iniziare. Allora, Intel Battlemage non è una novità, di questa architettura insieme alle altre quattro che compongono quella che sarebbe la teorica line-up di Intel si è iniziata a parlare sin dai tempi di Alchemist e anche qualcosina prima nel 2022-2021. Quello di Intel nel mondo delle schede video dedicate è stato effettivamente un percorso un po' tortuoso, a partire da Intel Arc Alchemist che è stata probabilmente una delle più problematiche. Al lancio un po' disastroso a causa dei driver assenti che causavano dei cali di performance abbastanza importanti, nonché la necessità vitale di avere la resize bar, cosa che ha spronato un buon numero di resi, almeno dalla percezione che è stata quella del mio pubblico, perché alcuni l'avevano abbinata su schede madri che appunto ancora non supportassero questa tecnologia come banalmente le prime schede di M4. Ad ogni modo Arc Alchemist per un pochettino effettivamente è stata una generazione interessante, ma più che altro per quale motivo? La Arc A770 e le sue compagne minori A580 e A380 offrivano un qualità prezzo abbastanza interessante, nel mentre che AMD e Nvidia ancora latitavano in quella fascia di interesse, dove le loro schede video al tempo non arrivavano con Nvidia che ancora era ferma verso la fascia A70. Oltre a questo Arc Alchemist è stata per esempio la prima generazione economica a offrire la V1, 16GB di VRAM e poi comunque era un pochettino una novità da cavalcare, interessante da vedere. Se poi ci aggiungi che i loro modelli reference non erano nemmeno brutti, alla fine capisci un po' questo micro successo delle GPU discrete di Intel. Passiamo però a Battlemage ora. Prima di tutto nuova architettura Battlemage, come potete vedere sfrutta core denominati XI2HPG in opposizione agli XIHPG di Alchemist e poi dovrebbe essere seguita da Celestial e Druid A, B, C, D. Di recente si è iniziata a parlare di Battlemage perché sono usciti su Amazon.com dei leak per quanto riguarda le B580. La line-up come potete capire segue il nome delle architetture, quindi Alchemist sarà la A e Battlemage sarà la B, Celestia la C e Druid la D. Quindi in questo caso sono le B580 per distinguerle dalle A580 della prima generazione. Il leak in particolare ha riguardato due schede video di ASRock, che è uno dei produttori principali per quanto riguarda le custom di Intel, che comunque ha un numero abbastanza limitato di AIB. Qui abbiamo la versione più grande e costosa, la Steel Legend Intel Arc B 580, come potete vedere monta tre ventole, versione RGB bianca, onestamente d'estetica e anche molto carina a mio dire. Mi ricorda un pochettino una TUF Gaming bianca fondamentalmente. Il secondo modello invece è la versione Challenger, c'è sempre di ASRock, una biventola come potete vedere un po' più spartana, colore nero, con però alcune differenze interessanti. Allora, qui abbiamo le immagini per quanto riguarda la custom della Challenger, come potete vedere molto compressa, richiama un pochettino da vicino forse i modelli della Dual di ASUS, come potete vedere molto carina, parte posteriore, ma la cosa interessante in realtà è che il connettore, come potete vedere qui, è un singolo connettore da 8 pin. Mentre quest'altra versione dell'A580, sempre di ASRock, ma in versione Steel Legend, come potete vedere ha due connettori da 8 pin. La versione precedente della Challenger A580, come potete vedere sul PCB, monta due connettori da 8 pin, cosa interessante perché vuol dire che probabilmente c'è stato un miglior lavoro su quella che è l'efficienza, dando possibilità a modelli appunto biventola di fascia inferiore di poter essere alimentati quindi con un massimo di 150 watt, probabilmente un po' più conservativo. Cosa che comunque ci dà dei segnali positivi perché sappiamo che l'efficienza è qualcosa che appartiene principalmente ai vidi e poi a AMD e insomma anche su quel piano devono competere, visto che questa scheda comunque i sui 220 watt li faceva, quindi di per sé già vedere la fascia minore lavorare meglio con meno watt è molto interessante. Di per sé potrebbe essere un miglioramento anche relativamente basso, visto che il TDP ideale della A580 era di 175 watt, con prestazioni simili a quelle della RX 6600 e della RX 5700, andando proprio a cavallo tra le due. Ovviamente ragazzi bisogna considerare che non solo i connettori della scheda video portano potenza, ma anche appunto la PCI Express può dare 75 watt, quindi potrebbero essere comunque un massimo di 225 al momento corrente. Per quanto riguarda la ARC 580, però io rimango fiducioso verso i 150 perché secondo me se consumasse di più o c'è un pessimo lavoro di ottimizzazione o le stanno spingendo per rimanere competitive. E comunque in generale bisogna vedere in che fascia si posizionino come prestazioni. Allora, per quanto riguarda le specifiche a confronto, come potete vedere la GPU diventa una BGM G21 contro la CM G12 della ARC A580. Le cose interessanti che cambiano sono meno XC Core, però ovviamente nuova generazione, quindi comunque più performanti, 20 contro 24 della generazione precedente. Aumenta tantissimo il GPU clock, in questo caso 2.8, io immagino che stiano parlando del boost clock. Comunque molto alto, 2800 MHz per una scheda video. 12 GB di VRAM GDR6 contro gli 8 della ARC A580. Comunque GDR6 mi fa pensare a una cosina che adesso vi dico. Abbiamo il bus da 192 bit contro i 256 della ARC A580, ma questo è derivato più che altro dalla differenza nel taglio. In alternativa avrebbero dovuto mettere un bus completo da 384 bit. Aumenta la velocità delle memorie a 19 GB per secondo, ma si riduce il bandwidth a 456 dai 512, nuovamente anche qui. Mentre la cosa forse un pochettino più sospetta è la P6 5.0 che non è full size, è una 8x. E adesso vi spiego un pochettino di cose che mi fanno capire questi dati. Allora, i 12 GB di memoria mi fanno pensare più che altro che, uno, Intel abbia fatto i compiti a casa, due, l'incremento prestazionale tra le generazioni la porti a competere nella zona della 6750 XT o 6700 o 7700 XT. Comunque zone dove AMD appunto offra i 12 GB di VRAM. Non hanno esagerato per contenere il costo, ma soprattutto per dare probabilmente un vantaggio un pochettino selettivo anche alla 770, perché comunque in qualche modo dovrà avere più VRAM in quel contesto. Ma non volevano svantaggiare troppo questa, che sicuramente sarà una delle best seller. Esattamente un po' come la ARC A580 quando è arrivata sul mercato. Il resto, GDDR6. Le GDDR6 in questo momento costano molto poco, cosa che mi fa pensare che Intel stia un pochettino tagliando i costi per riuscire a ottenere, diciamo, un prezzo il più competitivo possibile. Stessa cosa un pochettino suggerita anche dal bus, perché effettivamente è proprio streaming sito a 192 bit. L'unica cosa che non mi torna è questa PCI 8x, che non so se abbia un'influenza economica sul prodotto finale, però di per sé cosa vi posso dire. Stessa cosa anche un pochettino questo taglio dei core, 20 anziché 24, forse riesce a incrementare quello che è lo yield rate positivamente e appunto a gestire meglio i prezzi di Intel, che comunque in questo momento dovrà essere molto competitiva per riuscire a battere Nvidia e AMD. Per quanto riguarda la PCI, più che altro la cosa che non mi torna è che sia un 8x, ragazzi. Perché effettivamente parlando, se questa scheda video dovesse essere appunto per la fascia bassa, potrebbe essere un upgrade sensato per tutti quelli che in questo momento ancora latino nelle vecchie schede video di fascia bassa, come le 1050T, 1060, 2060 e cose così. Magari per fare un upgrade sensato si prendono questa scheda, ma nel momento in cui non abbiano una scheda PCI 5.0, potrebbero incontrare limitazioni, specialmente sulle PCI 3.0, che comunque sono molto diffuse ancora su AM4 e tante persone ancora hanno quelle piattaforme, non è che tutti quanti sono andati alle B550 o quantomeno alle B650, o comunque schede madri pronte per il 5.0 o quantomeno il 4.0. Bisognerà vedere prestazionalmente se questa cosa dell'8x non dia limitazioni finali, un po' come si è vista nella fascia bassa di AMD negli anni precedenti. Questa è una mossa che potrebbe ritorcersi contro Intel. Allora, come vi dicevo prima, la ARC B580 non dovrebbe essere la top di gamma, ma lo sarà la teorica B770, o quantomeno il nome dovrebbe essere quello. Si inizia già a parlare del suo chip, che è il Battlemage G31, mentre la B580 monta il G21, come potete vedere qui, e stando a questo leak primario il DAI dovrebbe essere più grande rispetto a quello di DG2512, che è la GPU che montano tutte le schede video Alchemist di Intel, incluso l'Intel Data Center GPU Flex 170, nome semplicissimo, Intel adorabile. Allora, diciamo che questi qui ovviamente sono un po' rumor, un po' leak, un po' insieme di cose che si discutono nell'ambiente. Stando alla maggior parte delle testate, il lancio dovrebbe essere il mese prossimo, anche Techspot sia un pochettino allineato a questa situazione nella giornata di oggi. Techspot solitamente è abbastanza affidabile, nel senso non che abbiano delle fonti speciali, però diciamo che quando decidono di riportare una notizia, lo fanno attendendo, tant'è che sono usciti tre giorni dopo di videocards, quindi gli diamo il beneficio del dubbio. Diciamo che un lancio a dicembre sarebbe sicuramente benefico per Intel. Uno, perché non c'è un refresh della fascia bassa da anni, e queste schede video potrebbero essere molto competitive, e comunque portare anche un beneficio di nome a Intel, che in questo momento ne ha assolutamente bisogno. Nel momento in cui i prodotti siano buoni, competitivi come prezzo, e con consumi e temperature decenti, onestamente la disponibilità sarà poi l'ultimo tassello vitale per vedere quanta diffusione riescano ad ottenere, prima che appunto AMD e Nvidia riescano ad arrivare a contrastare la fascia bassa. Comunque i loro lanci dovrebbero essere a gennaio durante il CS, e si sospetta che dovrebbero uscire prima la 90, 80 e 70 per Nvidia, mentre una teorica fascia media sarebbe occupata da RX 8000 di AMD. Quindi la situazione sarebbe che la fascia medio-bassa sarebbe coperta a dicembre da Intel, andando a rinfrescare un pochettino quella zona. AMD non vuole più competere nella fascia alta, quindi secondo me il loro limite prestazionale delle nuove generazioni sarà nuovamente la 7900XDX, andando quindi a dare schede video nella zona di 500 euro, fascia media alta, con appunto molta competitività sul prezzo. E per quanto riguarda la fascia alta invece avremo Nvidia, che andrà a rimpolpare la zona delle 90, 80 e 70, che dovrebbero andare a competere contro le attuali 90, 40, 80 Super e 40, 70T Super disponibili sul mercato. La cosa che un pochettino mi fa storcere il naso è una intervista che è uscita di Pat Gelsinger, il CEO di Intel, durante il mese di novembre. Vi spiego. Il CEO di Intel, in un'intervista che viene riportata qua su pcgamer.com, riportava che avevano sempre meno interesse per le GPU discrete, vede meno mercato e tutto quanto, e che appunto avrebbe più interesse a fare GPU integrate. E questa cosa mi fa pensare che anche se Battlemage fosse una generazione veramente esaltante per quanto riguarda il mercato delle GPU discrete di Intel, e effettivamente alla lunga potrebbe anche non vedere la luce celestial, perché perdono interesse, o comunque magari non come GPU desktop, ma soltanto come controparte mobile. Cosa che sarebbe un pochettino un peccato, perché comunque un terzo concorrente nel mercato delle GPU discrete non sarebbe male. Ma ovviamente, raga, è il CEO di Intel, si spera che abbia una visione di insieme più larga della nostra. Per quanto riguarda le prestazioni di queste schede, diciamo che ancora non si sa niente di sicuro, se non proprio qualche leak approssimativo, qualche calcolo teorico che si può fare. Come vi ho detto io, secondo me la zona di interesse che dovrebbero andare a mangiare è quella sotto la 7800 XT, perché onestamente è anche il mercato dove c'è più interesse generale per i consumers. Andiamo a prendere le prime 10 schede video della classifica del survey di Steam, oggettivamente vediamo che più o meno quella è la zona prestazionale che attualmente i gamer adoperano per la maggior parte, anche perché comunque c'è da considerare che queste schede video vanno forti nel mercato cinese, dove quella è la fascia di maggior interesse per la maggior parte dei servizi, tra cui anche internet caffè e cose così, più o meno la fascia 60-70 di Nvidia. Quindi secondo me anche la top di gamma non dovrebbe allinearsi troppo lontano da una 470-7800 XT, ecco quella dovrebbe essere la sua zona di interesse. Poi ovviamente staremo a vedere perché potrebbero esserci dei benefici dell'excess particolari, potrebbero esserci dei costi molto più invitanti, però dipende, se escono a più di 400 euro, secondo me Intel non riuscirà a avere troppo margine sul mercato europeo quantomeno. Vedremo poi sul mercato cinese che sicuramente aiuterà fortemente. Per il resto ragazzi la mia opinione è che la guerra sarà su disponibilità, prezzo, distribuzione e custom, perché oggettivamente sono i quattro punti cruciali che caratterizzano le nostre schede video. Nel momento in cui Intel riesca a fare un miracolo come le A580, magari con una distribuzione un po' più larga, perché in Italia sono arrivate col singhiozzo, personalmente ritengo che possano avere delle buonissime possibilità di immischiarsi più che altro in quel mercato che sia la zona bassa, che è quella di maggior interesse oltretutto, specialmente nel nostro paese. Ad ogni modo like, commenti e iscrizioni sono sempre gradite e fatemi sapere la vostra opinione. Noi ci vediamo al prossimo video, voi stati su Modern Tech. Salve.